tanta qualità per tutti ragazzi sono mister yuk bentornati in questo nuovo video finalmente sono uscite le patch notes ufficiali per quanto riguarda i rinforzi di metà stagione dell'operazione white noise sono uscite proprio neanche dieci minuti fa sul sito in inglese della ubisoft quindi che andremo a tradurre insieme oggi ha dato una rapida occhiata infatti andremo a vedere dei cambiamenti abbastanza interessanti sia dei buff sia dei nerf ad operatori molto interessanti partiamo con l'introduzione qui dice che è presente la patch 4.2 sarà introdotta ai tts mercoledì anzi giovedì scusate giovedì 11 gennaio quindi per i pc gamer possono testare i cambiamenti già da domani i cambiamenti saranno allora partiamo da e la lsmg avrà una riduzione del numero dei proietti da 50 a 40 come sapete lsmg di ela aveva 51 colpi quindi avremo una riduzione di 11 proiettili quando avremo 40 colpi comunque un caricatore sempre abbastanza capiente ma ragazzi 11 colpi in un gunfight fanno la differenza oltre alla diminuzione dei proiettili del caricatore c'è stato anche una riduzione della dell'effetto della mina a concussione infatti traduciamo quanto scritto qui sul sito che dice ci sarà comunque una riduzione della velocità di movimento e della velocità di rotazione della camera ma l'effetto diciamo della norma quindi l'effetto di stordimento verrà recuperato invece che in sette secondi in quattro secondi quindi durerà meno l'effetto di stordimento della mina ed attenzione passiamo ad un altro operatore usato praticamente in tutti i round di attacco parla ovviamente di ash come potete leggere perché è stato nerfato l'r4c è stato infatti ridotto il danno dell'r4c da 41 a 39 abbiamo quindi una riduzione di 2 di danno praticamente dell'arma l'r4 inoltre l'arma più utilizzata dalla maggior parte di gamer che utilizzano ash il g36c abbastanza messo in disparte infatti è stato appunto ridotto il danno proprio di quest'arma che è usata moltissimo qui dice che gli sviluppatori hanno comparato la l'arma appunto più popolare di ash che l'r4 agli altri assault rifle cioè lì non mi viene la traduzione i fucili d'assalto hanno comprato le statistiche e ha notato che il danno comparandolo con light rate of fire cioè il ratio di fuoco è molto più alto rispetto agli altri fucili d'assalto quindi hanno deciso di abbassare di 2 il danno dell'r4c passiamo a parlare di un altro operatore d'attacco che è capitau perché è stato incrementato il danno del para 308 da 43 a 48 quindi abbiamo un aumento un guadagno di 5 punti danno del para 308 potete vedere qui infatti anche una foto che mostra l'update del danno del para 308 dal normale da soppresso e dall extended barrel che vuol dire la canna lunga riduzione sostanziale delle munizioni del drone di twitch attenzione ragazzi perché da 15 sono abbassate a 5 quindi hanno tolto ben 10 munizioni dal drone di twitch perché si erano accorti evidentemente che twitch era troppo forte perché c'era una veramente anzi anche troppa possibilità di poter buttare a terra un un nemico intero anche più di un nemico con solo il drone di twitch ovviamente se non si riusciva a distruggere dato che se avevano a disposizione 15 munizioni è stato modificato inoltre il tempismo della ricarica dei goody legion che si caricheranno adesso ogni 30 secondi invece di 35 come era prima quindi abbiamo anche un piccolo potenziamento per le goody legion che avremo la possibilità di lanciare più spesso grazie a questa riduzione del tempo di ricarica l'ultimo ma non per importanza abbiamo anche un cambiamento per quanto riguarda la visione del caster infatti come vedete da questa immagine il caster avrà la possibilità di avere più informazioni dell'operatore stesso come vedete è stato cambiato un po lo screen in alto i colori sono diversi diversi sono anche il modo in cui sono mostrati gli operatori vivi e morti ma il cambiamento più importante è stato proprio le informazioni che abbiamo dell'operatore infatti abbiamo ovviamente il nome dell'operatore il nome del player le armi che sta usando addirittura quanti dardi nel caso di capitale ovviamente quanti dardi li mancano ancora e la claymore si è stata utilizzata o meno poi ci sono ovviamente i bug fixes e tanti problemi risolti che non vi sto qui ad elencare se volete ragazzi potete andarli a controllare voi se riuscite a tradurli tutti in inglese con questo ragazzi è davvero tutto mi raccomando lasciate un like un commento e condividete il video vostri amici appassionati di rainbow six con questo è tutto dal vostro mister yook un saluto tanta buona per tutti e alla prossima ciao 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 ciao